Siete alla ricerca di uno smartphone molto potente, ma allo stesso tempo con un design accattivante? Ve ne mostro uno tra poco, qui su Tech Princess! Oggi voglio parlarvi di OnePlus 5 JCC+, l'edizione limitata di OnePlus 5, realizzata in collaborazione con il celebre stilista Jean-Charles de Castelbaillac. Ma che cos'è OnePlus? OnePlus è un'azienda cinese nata nel 2013 e specializzata nella produzione di smartphone. Fino a poco tempo fa comprare un telefono dell'azienda era quasi impossibile. Per riuscirci infatti era necessario uno speciale invito. Il motivo? Da un lato OnePlus ha voluto creare un certo alone di mistero, dall'altro invece troviamo uno smartphone diverso dal solito e quindi destinato a un pubblico ristretto e capace di apprezzarne le particolarità. Negli anni però le cose sono un po' cambiate ed acquistare un prodotto OnePlus è diventato molto più semplice. Ora tutto ciò che dovrete fare è recarvi sul sito web dell'azienda e cliccare sul tasto acquista subito. Ma comprare che cosa? Semplice! OnePlus 5, l'ultimo arrivato della famiglia OnePlus, che si presenta come un vero e proprio concentrato di potenza accompagnato da un prezzo decisamente concorrenziale. A distinguerlo c'è anche il design essenziale ed elegante che si presta particolarmente bene ad eventuali personalizzazioni. Ed è proprio per questa sua peculiarità estetica che è nata la collaborazione con il famoso stilista francese Jean-Charles de Castelbaillac. Questa insolita partnership ha dato vita a un'edizione limitata di OnePlus 5 chiamata JCC+. A distinguerlo dal modello tradizionale sono due elementi, le frasi ispirazionali inserite sul retro dello smartphone e di pulsanti laterali colorati. Le caratteristiche tecniche rimangono invece sempre le stesse. Abbiamo così un processore Qualcomm Snapdragon 835, la doppia fotocamera posteriore e l'esclusivo sistema di ricarica rapida Dash Charge. Le versioni vendute abitualmente sono due, quelle da 64 GB di memoria interna e quella da ben 128 GB. L'edizione limitata è stata però realizzata solo per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio e di archiviazione interna. E il prezzo? Tranquilli, il modello realizzato in collaborazione con Jean-Charles de Castelbaillac costa esattamente come la versione standard di OnePlus 5. Insomma, allo stesso prezzo potrete avere anche uno smartphone di design realizzato da uno specialista dell'alta moda. Direi che anche per oggi è tutto, io vi ricordo di seguirci sul nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!